Musica 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 Viva Lorenzo Musica A Estéfalo Musica Musica Grazie a tutti. Bravi, 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 bravi. Complimenti a Giuseppe e a Stefano. A questo punto omaggiamo la grande tradizione secondo Casadei. Balliamo la mazzurga con Mascotte. Ci vuole raffinare la mano Roberto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questa è la mazzurga con Mascotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questa è la fisarmonica di Caprini. E questa è la fisarmonica di Caprini. E questa è la fisarmonica di Caprini. Eh, che bravi ballerini, eh, corre alla gambetta che funziona alla grande. Allora, visto che è arrivata, come si dice, la richiesta volante, questo mi fa molto piacere perché torniamo a parlare della tradizione Bergamini, ma soprattutto della grande tradizione della vera Romagna, Nicolucci Bergamini. Questo bel balzerone dedicatissimo all'amico Fabio, questo è Pensando a Rossini. Allora! 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 Grazie a tutti. 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 Signori, me lo fate sentire un bel applauso per i miei ragazzi, eh? Bravi ragazzi, complimenti a voi, complimenti, complimenti, veramente. Grazie.